Siamo allo stand Canon, che quest'anno porta alcune novità veramente importanti. La nuova camera cinema C400, che qui vediamo per la prima volta in Europa. E la nuovissima cinema C80. Delle novità veramente importanti nella produzione full frame per Canon. E poi ci sono anche delle novità significative nel mondo broadcast, che noi abbiamo l'orgoglio di rappresentare in Italia, come la nuovissima ottica 4K 27x7.3. Con un nuovo drive unit digitale per tantissime personalizzazioni nelle applicazioni di riprese live broadcast. Si tratta infatti di un nuovo drive unit, è cambiato non solo come layout, ma anche per alcune funzioni che sono piuttosto innovative. Abbiamo una presa USB in-out, che ci permetterà sia di fare gli aggiornamenti firmware per quanto riguarda l'ottica, ma anche eventuali aggiornamenti dovuti alla comunicazione e camere ottiche, per un uso sempre più spinto verso la realtà virtuale. E infatti dall'USB-C, oltre che dal classico connettore 20 poli, sarà possibile estrapolare quelli che sono tutti i metadati relativamente al posizionamento delle ghiere dell'ottica. Oltre a questo, una novità veramente importante è che quest'ottica è la prima ottica ING ad offrire la compensazione del focus briefing, quindi attivandolo tramite il display del nuovo drive unit io ho la possibilità di poter cambiare i fuochi senza il tipico effetto zoom in-zoom out che si ha durante i movimenti di fuoco.